Le luci della notte portano di nuovo Fortuna al Teramo, ancora vincente e a tratti persino bello. E' la quarta volta che accade dopo Fano e Gubbio in campionato e l'Upa Roma in Coppa Italia e l'Ancona costretta ad arrendersi, ma solo dopo aver addirittura accarezzato la possibilità di vincere una gara che il diavolo sembrava avesse in pugno dopo i due gol segnati nei primi dieci minuti con Ilari e Bulevardi. La doppietta di De Silvestro rimesso l'Ancona in carreggiata, mandando in confusione la squadra di Nofri che ha rischiato il tracollo. La gioia del diavolo ha il volto e il sorriso di un ragazzo di 18 anni, Alessandro Fratangelo, che ha realizzato il 3-2 liberatorio. E' il mio primo gol tra i professionisti e sono felicissimo di aver segnato, di partecipare alla squadra di questa vittoria e sono contentissimo. La dedica per la tua famiglia e poi per chi? Per Francesco Rossi, che mi è sempre vicino, mi sostiene sempre e lo dedico anche a lui questo gol. La partita. Il Teramo si presenta all'appuntamento con il tridente Petrella-Sanzovini di Paolo Antonio. Torna al centrocampo Peterman in difesa e viene confermato Manganelli dopo il buon debutto a San Benedetto. Dorazio e Lex. Ce n'è uno anche nell'Ancona. Momente, terminale offensivo del 4-2-3-1 di Brini. La squadra d'Orica in trasferta ha un ruolino da incognita, un solo stop e ben 5 segni X. Arbitra Marchetti di Ostialido. Teramo subito in vantaggio al settimo. Avete già visto il gol di Ilari. Quindi bis al decimo con un'azione insistita che porta Bulevardi al raddoppio. Gara dunque in discesa per il Diavolo, per un Bonolis pazzo di gioia. Al quindicesimo Ancona vicino al gol con un'incursione di De Silvestro. Palla in mezzo per la corrente Ajei che tira ma la difesa bianco-rossa salva seppure con qualche affanno. Ventiquattresimo Teramo ancora vicino al gol con Sansovini che raccoglie un invito di Petrella e costringe il portiere scuffia ad una deviazione con i piedi in calcio d'angolo. Al quarantunesimo improvviso il gol dell'Ancona. L'Ancona lo segna De Silvestro che sfrutta un pallone vagante in area bianco-rossa sugli sviluppi di una punizione calciata da Momente. Due minuti dopo da segnalare un gol annullato al Teramo. Ilari aveva depositato la palla in rete ma il giudice di linea ha alzato la bandierina per un fuorigioco molto dubbio di Petrella che si era avventato sul pallone e messo in mezzo da Sansovini. Con le immagini passiamo alla ripresa. L'Ancona pareggia al nono con De Silvestro che sfrutta un cross ma anche una dormita della difesa bianco-rossa per inzaccare di testa da due passi. Incassato il pari il Teramo si perde e rischia seriamente di incassare il terzo gol. Nofri allora getta nella mischia il giovane fratangelo che al trentatreesimo lo ripagherà con i tre punti che consentono al diavolo di tornare a respirare, di superare in classifica l'Ancona e di affrontare con serenità la settimana con il doppio impegno di Coppa Italia mercoledì contro il Siena al Bonolis e in campionato sabato in trasferta contro la Reggiana.